La reazione della modella Tedeknd vorrebbe tornare con Bella Hadid, la reazione della modella Tedeknd e Bella Hadid tornano insieme? Il cantante torna dalla modella dopo Selena Gomez. Tedeknd si sta riavvicinando a Bella Hadid. Questa è la notizia che dà il sito di Hollywood Life in esclusiva. Una fonte certa ha rivelato alla rivista online che Abel avrebbe deciso di tornare ad avere un rapporto con la modella di Victoria's Secret. Tedeknd ha ormai chiuso la sua relazione con Selena Gomez. Questa notizia è stata resa nota qualche settimana fa. . Dopo aver reso ufficiale la loro rottura, entrambi hanno deciso di ricominciare la loro vita. . Selena si fa consolare da Justin Bieber. . I due sembrano aver deciso di riavvicinarsi. . . La nota pop star ha dimostrato di essere una persona importante nella vita della Gomez, la quale ha dovuto affrontare vari problemi di salute negli ultimi anni. . Selena e Teve Eknd sembravano essere inseparabili e super innamorati. . . Ma la coppia è scoppiata. . Così, Abel avrebbe deciso di tornare su suoi vecchi passi. . . Ma qual è stata la reazione di Bella? A quanto pare la sorella di Gigi Adid ha scelto di rifiutare le avance dell'ex fidanzato. . . Bella Adid rifiuta Teve Eknd, il cantante non perde le speranze. . Teve Eknd starebbe mandando messaggi chiamate sul numero di Bella Adid, in continuazione. . Il cantante vorrebbe riprendere i rapporti con la modella. . I due si sono lasciati qualche tempo fa e Abel aveva scelto di ricominciare attraverso una nuova relazione. . Infatti, lo scorso gennaio l'abbiamo visto fidanzarsi con Selena. . . Ora che la Gomez e Abel si sono lasciati, si apre una grande possibilità per il ritorno di coppia di Bella e del cantante. . Stando alla fonte, la Adid avrebbe scelto di rifiutare le attenzioni di Teve Eknd, mostrando molta indifferenza. . . Infatti, la modella di Victoria Secret non avrebbe intenzione di mancare di rispetto alla sua storia d'amore con Dracke. . Selena Gomez e Justin Bieber di nuovo insieme, i fan sperano nel ritorno di Teve Eknd e Bella Adid. . Pare che Abel sia completamente devastato da Bella. . Ed ecco che molti sono i fan che hanno iniziato a sperare in un loro ritorno di fiamma. . Tanti altri, invece, si ritrovano a desiderare di vedere Selena e Justin Bieber di nuovo insieme. . . Quest'ultima coppia sembra ormai vicina al ritorno di fiamma, mentre per Teve Eknd e Bella cè ancora qualche dubbio. .